Quanti aveva servito Shinnok a lungo. Il suo ruolo nel liberarlo non era passato inosservato agli dei anziani. Shinnok non era più una minaccia, ma le azioni di Quanti avevano creato un nuovo potere. Dopo lunga discussione, gli dei anziani elaborarono un piano per ribilanciarlo prima che crescesse ancora. Il libero arbitrio fu estirpato da Quan Chi e rimpiazzato da un'unica direttiva. Doveva uccidere Nara.